Allora, ci troviamo nella piazza centrale della Mandria, in questo bel contesto storico. Alle nostre spalle si possono vedere manifesti che il comitato Io mi rifiuto ha predisposto per opporsi a due progetti che distruggerebbero il territorio. Uno è quello presentato da Sogin che prevede a poche distanze di centinaia di metri di qua uno dei posti per realizzare l'impianto per lo stoccaggio di rifiuti nucleari e l'altro è quello del biodigestore nell'ex Ediglias a meno di mille metri da dove ci troviamo in questo momento. Entrambi i progetti sono una bomba sul territorio dei comuni confinanti, comuni di Caluso, comuni di Mazzè, di Rondissone, ma le conseguenze peggiori ricadrebbero proprio sulle frazioni di Chivasso, in particolare Mandria e Boschetto. A giorni la città metropolitana dovrebbe pronunciarsi sulle contraddeduzioni che la Caluso Biometano ha presentato, la scadenza per la presentazione è in questi giorni appunto, e l'altro invece è la presa di posizione che la mozione votata all'unanimità dal Parlamento fa sì che ci siano alcune condizioni poste da questa mozione, tale da poterci fare ben sperare, ma nello stesso tempo non ci danno garanzie assolute che questo progetto di deposito di scorie nucleare si realizzi su questo territorio, che che dicono alcuni parlamentari che lo danno ormai per morto e sepolto. Mi auguro che abbiano ragione loro. In questi giorni scade anche il tempo perché il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sul progetto per realizzare anche qui un biodigestore a Rondissone. Già questo aveva ottenuto l'autorizzazione della città metropolitana, il TAR lo aveva bocciato, aveva dato ragione al Comune di Rondissone, ma la città metropolitana e soprattutto la società proponente avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato. Quindi in questo territorio si rischia a poche migliaia di metri realizzare degli impianti mostruosi che distruggerebbero in via definitiva questo bel territorio. Beh, è certo che l'obiettivo principale di nostro Comitato è quello di opporci in modo motivato a che venga realizzato l'impianto per il biodigestore perché non c'è una rete fognaria che raggiunga quell'area, quindi scaricherebbero le acque in una roggia di proprietà del Consorzio Irriguo di Chivasso. Per le vicinanze che questo impianto avrebbe sulle case presenti su questo territorio, non solo le case sparse, ma anche i centri abitati. Per fortuna la Regione Piemonte ha approvato nel marzo scorso due provvedimenti, uno dei quali giocherebbe decisamente a nostro favore, se applicato la lettera della città metropolitana, perché dice 500 metri dalle case sparse e invece abbiamo case sparse a meno di 100 metri, la cascina del Tuono, la cascina Biondo, ma parla anche di 1000 metri dai centri abitati. Voglio ricordare che la Mandri è un centro abitato e la frazione Boschetto, Via Campagna è centro abitato, sia dal punto di vista urbanistico della città di Chivasso, sia dal punto di vista del codice della strada che definisce esattamente cosa si intende per centro abitato. Quindi applicando la norma della Regione Piemonte, il biodigestore è a meno di 1000 metri dai due centri abitati. Io abito a 950 metri in linea d'aria, perché gli odori naturalmente non fanno i percorsi delle strade, ma vanno in linea d'aria. E quindi è chiaro che noi ci avvarremo anche di questa nuova normativa per continuare a opporci. Quell'altro, quello del centro per il deposito delle scorie nucleari, le faldi acquifere sono sia quelle in superficie troppo raggiungibili da eventuali perdite di scorie, sia quella profonda che è quella che alimenta l'acquedotto del Monferrato perché raggiunge il campo che c'è a Saluggia, da dove parte l'acquedotto del Monferrato. Poi ci sono i prodotti naturalmente del territorio che hanno una loro validità. Anche qui le distanze, la mozione, la contestazione che io ho fatto a questa mozione è che critica, come facciamo noi, la distanza definita adeguata da Sogink, ma non dice, non dà un orientamento al governo e quindi alla società Sogink di che cosa si intenda per distanza adeguata, mille metri, due mille metri, tre mille metri. L'Enea a suo tempo invece aveva definito queste distanze in modo preciso. Prendono quelle, le applicano, quel progetto non si fa nel B10, non nel deposito previsto in quel di Mazzea, ai confini del comune di Chivasso. Quando si confonde la libertà con il libero arbitrio si arriva a queste conseguenze. La mia libertà non è totale, non è a 360 gradi, ma confina esattamente con la libertà degli altri. Il comportamento tenuto da questa signora va a cozzare con la stragrande maggioranza dei cittadini di Chivasso e soprattutto va a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, invece per lei non lo è. Perché tutti gli altri commercianti, esercenze di pubblici servizi in quel di Chivasso, hanno rispettato le regole. Lei no. Io ho sostenuto e continuo a sostenerlo che questo comportamento doveva essere sanzionato in modo determinato sin da subito e metterò un'ordinanza con la quale si prevedeva il sequestro del mezzo, si ponevano i sigilli, l'eventuale rottura dei sigilli diventava immediatamente caso penale. Doveva intervenire la magistratura. Ma questo doveva essere fatto a novembre. Non è stato fatto, è mancato il coraggio e i mesi sono passati e questo ha ottenuto sempre più forza, sempre più sostegno anche dall'esterno del territorio. Sappiamo che i manifestanti sono arrivati da fuori. Io questo comportamento di presa in modo determinato di una decisione l'avevo fatto nell'89 quando avevo previsto che chi non ottemperava la mia ordinanza sul traffico veniva sequestrato il mezzo. Per poter avere il dissequestro del mezzo bisognava fare domanda al pretore di Chivasso, adesso alla procura di Ivrea, e avere il dissequestro. Non è stato fatto e quindi questo ha fatto sì che si arrivasse i giorni nostri. Finalmente è intervenuta la magistratura, ma dovevano muoversi prima le autorità competenti dal punto di vista amministrativo, cosa che non è accaduto.